bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo video vi volevo raccontare un po come ho passato questi giorni questi mesi di cambiamenti perché da un po di tempo ho cambiato la scuderia e sono andata al centri picacolori io ho cambiato scuderia perché non è che non mi trovavo bene però volevo fare un percorso agonistico e io ho fatto diciamo gare agonistiche e mi sono iscritta alla fise ho iniziato a fare alcune gare fise prima con il morello perché come te non era iscritta alla fise e poi dopo un po di tempo abbiamo preso balli e lì abbiamo iniziato a saltare sempre di più e infatti adesso questi diciamo tre barra quattro mesi salto le 100 quindi per me è un grandissimo progresso e sono davvero felice col centro di picacolori facciamo tantissime gare e l'ultima gara che abbiamo fatto era la gara squadre e siamo arrivati terzi è stato bellissimo perché oltre a fare io la gara è andata benissimo l'ho fatta insieme delle mie amiche quindi ci siamo unite abbiamo fatto una squadra la squadra è la squadra colore soffiata per lei si è scappone di 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 al centro di picacolori facciamo tantissime gare facciamo tipo due gare ogni settimana perché noi facciamo tipo qualche volta se avanti sono anche peccato di picacolori e domenica, altre volte domenica, altre volte ancora, venerdì, sabato e domenica, quindi ce ne sono. Comunque tutte le settimane siamo in gara, a parte i giorni che ci sono di stop come questi. L'anno scorso, in questi giorni più o meno, vi facevo i saluti e improvvisamente siete diventati tantissimi e grazie. E vi ricordo anche quest'anno a Fiera Cavalli che è stato bellissimo incontrarvi. Fiera Cavalli è stato molto bello perché abbiamo fracasso, ha cantato il singolo che abbiamo fatto insieme il videoclip, fracasso è un cantante rapper e mi ha fatto questa canzone veramente bella, infatti lo ringrazio. Sicuramente faremo altre collaborazioni, quindi chi sta? A Fiera Cavalli mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto tantissime cose, poi ho conosciuto due campioni che saluto, ciao Alberto Zorgi e Lorenzo De Luca, ciao! E li ho incontrati e abbiamo un po' parlato e è stato bellissimo. Mi è piaciuto molto vedervi perché eravate tantissimi in tutti i due giorni, è stato molto bello e io ero emozionatissima e è stato bellissimo. Io vedo tutti i messaggi e siete veramente in tanti quindi non riesco a rispondervi tutti insieme, però vi rispondo, state tranquilli perché siete veramente tanti, siete 7000 quindi sapete un po' quanti siete. Adesso siete 7.715, siete tantissimi. Sono contenta di essere arrivata a 2 milioni di visualizzazioni di tutti i video, quindi totali. Quest'anno è andato veramente bene, mi sono divertita un sacco, oltre a fare tantissime gare, mi sono divertita tanto e poi quest'anno sono migliorata sempre di più. Come avete visto fai conto che prima facevo le 60 e adesso sono arrivata a farle 100 e per me è... come posso dirlo? È un traguardo grandissimo. Sono veramente felice, soprattutto perché comunque oltre, vabbè, ha fatto molte gare con la Cometa e poi sono andata avanti con Carl e adesso sto andando avanti con Balli, ma tra un po' andrò avanti con Carl. Il mio cavallo di punta, finora per far le gare alte ai balli. Però io e la Sofia stiamo puntando a far migliorare sempre di più Carl, così poi porteremo Carl a far le gare. Sofia è la mia istruttrice che saluta tanto. Ciao Sofi! Viene con noi a far le gare anche lei ed è bravissima ad insegnare. Vorrei tanto iniziare a far le gare alte, arrivare diciamo un po' sul podio e poi chissà, magari riuscirò ad andare anche a a Verona piuttosto che a Pezza di Siena. Mi avete chiesto perché monto Balli? Io monto Balli perché diciamo è pronto. Lui è più pronto di Carl perché Carl ha 7 anni e deve imparare. E Balli invece ce ne ha 14 ma lui è bravo, è pronto, lui riesce a saltare benissimo e io monto lì perché così almeno io imparo da lui e poi io dove ho imparato con Balli mi ha fatto imparare a me, io cosa ho imparato con Balli lo trasmetto a Carl e così in Carl diventerà bravo a saltare. Come età è in scuderia, la monto qualche volta, lei è vecchietta quindi non può più far le gare, infatti fa molta fatica a fare il galoppo, però è molto brava, soprattutto per i bambini che magari vogliono iniziare a montare, hanno magari un po' più di paura, lei è perfetta perché è dolcissima e lei non fa niente, lei non sgroppa, cioè vabbè quando salti ma se in caso salti, cioè la cometa è perfetta per i bambini che vogliono iniziare. Per tutti quelli che vogliono venire in scuderia a trovarmi, siete veramente in tanti quindi magari io non posso starvi dietro più di tanto perché la maggior parte delle volte sarò in campo oppure sto preparando il cavallo e visto che venite in tantissimi in scuderia, vi prego di portare pazienza perché magari non vi do retta perché sono in campo a fare la lezione. Grazie perché mi venite a trovare, sono felice. Scusate che non faccio video tante volte ma perché noi, io e mio papà, lo pensiamo e lo strutturiamo e poi facciamo tutte le cose. Il problema è che ci vuole molto tempo, come vedete magari ci sono gli effetti speciali e quindi noi richiedono molto tempo, infatti noi ci mettiamo più o meno dieci ore a fare un video. Scusate però cercherò di fare spesso video e poi storie su Instagram. Ve l'avevo promesso che vi salutavo e adesso vi saluto. Saluto Sabri Horse, ciao Martina Bonomi, Horse Forever poi Fran Sequestre, Scomparsa Ele, Asia Mash, tutti i miei amici della scuderia Castelli, ciao Francesca, Anna Chiara, Ginni, Sofì, Fabiola, Aurora, Sara di Milano che viene sempre nella mia scuderia, ciao Un bacione Melissa, Vittoria Ventresca, Fedi94, Elisa Troffa, Giulie Horse, Michela Gioia, Angela Cimolai e poi devo salutare anche Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su ed iscrivetevi al canale, guardate gli altri video, ciao 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 Ciao